Allora signora Valli cosa ha provato quando ha trovato nella busta delle lettere la cartolina? Si immagini trovare una cosa con l'indirizzo di mio marito che è mancato da 29 anni fa è stata un'emozione forte, veramente Allora lei sapeva che le sue amiche erano andate in gita in Russia? Si sapevo che erano andate in Russia ma non pensavo la cartolina mi è arrivata adesso in genere mi mandava sempre i suoi saluti adesso è arrivata un po' in ritardo